Il 3 settembre in Piazza della Repubblica saranno distribuite alle famiglie bisognose oltre 16 tonnellate di pesche. Oltre 1600 cassette di frutta saranno distribuite gratuitamente il 3 settembre in Piazza della Repubblica alle famiglie bisognose di Agropoli. L'iniziativa patrocinata dal Comune di Agropoli sarà realizzata dall'Associazione di Promozione Sociale Bittel Italia, presieduta dal Presidente Gian Battista Bond San. La distribuzione è possibile grazie agli aiuti messi a disposizione dalla Comunità Europea, sarà realizzata dall'Associazione Nazionale di Volontariato e Protezione Civile IPF Ollus e l'Associazione di Promozione Sociale Bittel Italia, con i volontari della locale filiale coordinati dal delegato Donato San Giovanni. Siamo felici di poter affiancare e sostenere questa bella iniziativa di solidarietà, commenta il Sindaco Franco Alfieri. Un ringraziamento all'Associazione di Promozione Sociale Bittel Italia, che concretamente permetterà di effettuare la distribuzione della frutta. Oltre 16 tonnellate di pesche alle famiglie più bisognose. Ringraziamo l'amministrazione comunale per il sentimento e l'attenzione rivolta alle famiglie in difficoltà, affermano i responsabili di APS Bittel. I nostri volontari non vanno in ferie e lo dimostrano ancora una volta attraverso la presenza sul territorio, sostenendo i più bisognosi in un momento così delicato. Siamo felici inoltre di ringraziare il Ministro di Culto dell'Assemblea di Dio in Italia, il pastore evangelico Elia Punzo, responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica di Agropoli per la sensibilità e la totale disponibilità.